Penultima giornata di campionato, poi spazio e play-off nella massima serie femminile. Nella venticinquesima giornata, per quella che sarà l'ultima gara gasalinga per la regular season, la molisana Magnoli a Campobasso ospiterà il San Martino di Lupari e punterà a regalare ai propri tifosi un'altra domenica di soli sorrisi. Con la volontà di incrementare l'attuale serie di cinque successi consecutivi, proseguendo così nella rincorsa al quarto posto per ottenere il miglior piazzamento possibile in ottica post-season, le Magnoli dovranno dar vita ad un'altra prestazione senza errori. Le Rosso-Blu hanno lavorato intensamente in settimana per preparare al meglio la gara, tanta la voglia di continuare a migliorarsi, di provare ad andare oltre i propri limiti e ben oltre le statistiche. Questo lo spirito con cui le ragazze di coach Sabatelli affronteranno una contesa per nulla semplice. Conquistare due punti contro le gialloniere rappresenterebbe l'ennesima soddisfazione all'interno di una stagione fantastica. In una gara dal sapore speciale per l'ex di giornata Nina Dedic, la società del capoluogo ha previsto una serie di iniziative volte a rendere ancora più particolare scenica e gioiosa l'atmosfera. Il San Martino di Lupari dal canto suo proviene da cinque sconfitte consecutive, a rendere ancora più difficile la situazione e diversi infortuni con cui la squadra ha dovuto fare i conti. Ma a tutti gli effetti una compagine di grande spessore che al pala silvapiana giocherà a testa alta per provare a centrare l'accesso ai play-off. Una partita tiratissima e a basso punteggio, quella disputata nel turno di andata lo scorso dicembre. In quell'occasione il San Martino ha ceduto 46-49 in volata. Con palla a due alle ore 18 a dirigere le operazioni sul parquet, una terna tutta al maschile formata dal ciociaro Gioal Luca Gagliardi, dal goriziano Alberto Morassutti e dal capitolino Andrea Alcoraggio.